oh mamma è tardissimo tra poco arriva la mia amica devo cucinare per forza qualcosa oh che faccio che faccio posso fare il sole di sfoglia si si quello è super veloce ah ma prima di iniziare se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per fare il sole di sfoglia ci serviranno 100 g di salame 100 g di prosciutto cotto 120 g di provola due rotoli di sfoglia tonda e circa 100 g di salsa condita con olio sale e origano prendiamo il primo rotolo di sfoglia e iniziamo a condire salsa aggiungiamo il formaggio e ora uniamo il prosciutto e il salame sovrapponiamo l'altro rotolo di sfoglia ecco fatto ora prendiamo un bicchiere una tazza posizioniamo al centro e schiacciamo leggermente con un coltello andiamo a tagliare a strisce una volta fatto togliamo il bicchiere prendiamo una fetta di sfoglia e facciamo in questo modo cercando di intrecciare se volete che una volta sfornato risulti ben dorato spennelliamo con un uovo inforniamo a 180 gradi per circa 15-20 minuti il mio pasticcio è pronto spero di fare proprio un bel figurone voi che dite? aspetto i vostri commenti ciao ciao